Ho parlato con il prefetto, ho parlato con quest'ora, lo ripeto per l'ultima volta, il problema è della vostra destra e della vostra sinistra, no scusi, lei o ascolta quello che dico oppure oggi mi cero un po' le palle, allora ascolti bene, il problema è che voi avete dei politici di merda che hanno convinto il questore e il prefetto che questa città è sana, vada dagli altri e gli domandi come mai sta città è sana, questa città fa cagare alla base e la destra e la sinistra di questa città sono dei dementi, punto, ho finito. Non è al di là della politica? No, non è al di là della politica, scusi, cosa cazzo chiede, una sega, facessero il loro cazzo del lavoro, scriva così.